Sarà pronto verso fine luglio e comprenderà anche Posillipo e alcune parti del quartiere Chiaia e il nuovo piano di evacuazione e rischio vulcanico per l'area dei campi Flegrei di cui si è discusso nella sede di Unicredit in Via Verdi a Napoli. Il piano, ha detto l'assessore alla protezione civile della campagna Edoardo Cosenza, è ormai alle battute finali. E dopo la stoccata della Corte Europea che ha chiesto all'Italia chiarimenti sui piani di evacuazione regionali, Cosenza risponde così. Se l'Europa vuole contribuire finanziariamente ben venga già in questa fase, poi nessuno può chiedere agli altri qualcosa senza finanziarla quindi io ribalto, spero che l'Europa, visto che dimostra che il problema è importante, finanzi già in questa fase in cui non c'è nessun allarme per il Vesuvio, finanzi azioni di protezione civile. È facile chiedere, chiediamo anche noi finanziamenti all'Europa ulteriori. Lo scenario dei campi Flegrei risulta adesso più complicato. Nell'incontro è stato sottolineato che negli ultimi 4.000 anni è possibile, non probabile, ma possibile, che si apra una bocca eruttiva spostata più verso fuorigrotta. Per questo è necessario estendere la zona rossa ad altre parti di Napoli che, oltre a Niano, Bagnoli e fuorigrotta ovviamente, comprenda anche posilli per parti di Chiaia, come sottolinea il luminare della geologia, professor Giuseppe Luongo. Tutta la parte occidentale della città di Napoli è flegrea, personalmente ritengo che tutta la città di Napoli è flegrea da un punto di vista naturalmente vulcanologico, quindi la città di Napoli non è poi tra due vulcani, ma è su un vulcano anch'essa.